Ciao ragazzi, in questo video parleremo di disequazioni esponenziali e vedremo come fare a risolverne le principali tipologie. Cominciamo subito col dire che per risolvere una disequazione esponenziale si procede in maniera molto simile a quello che si sarebbe dovuto fare per risolvere la corrispondente equazione, quindi tutti quei passaggini di, diciamo così, manipolazione algebrica che abbiamo imparato a fare per le equazioni, basati sostanzialmente sull'uso delle proprietà delle potenze, si fanno allo stesso identico modo qui nelle disequazioni. La differenza fondamentale però si vede di solito verso la fine dell'esercizio, quando uno deve passare dalla disequazione esponenziale alla corrispondente disequazione algebrica tra gli esponenti. Cerchiamo di capire perché. La cosa fondamentale è ricordarsi che gli esponenziali con base maggiore di 1 sono delle funzioni strettamente crescenti. Per questo quando ci troviamo davanti ad una disequazione del tipo a elevato ad una certa f di x maggiore di a elevato ad una certa g di x, dove f di x e g di x possono essere due funzioni qualsiasi, allora l'idea è che questa disequazione equivale direttamente alla disequazione tra gli esponenti avente lo stesso verso. Cioè vedete nel passare dalla disequazione esponenziale alla disequazione tra gli esponenti viene preservato il maggiore in questo caso. E perché vale questo? Perché l'idea è sostanzialmente che se la base è maggiore di 1 e quindi se l'esponenziale ha una funzione crescente, allora sarà tanto più grande quanto più grande ha il suo esponente. Per capire meglio la cosa vediamo subito un paio di esempi. Se dovessimo risolvere 3 elevato alla 2x più 1 maggiore di 3 alla meno 1, e vedete che siamo esattamente in questa situazione perché abbiamo due esponenziali con la stessa base e però esponenti diversi, posso tranquillamente passare subito alla disequazione tra gli esponenti e nel fare questo preservo il verso. Quindi vedete c'era maggiore, ricopio maggiore. Nell'esempio successivo invece dove abbiamo 2 alla x più 5 minore di 2 alla seconda, anche qui ho gli esponenziali aventi la stessa base, posso quindi passare subito alla disequazione tra gli esponenti preservando il verso. Quindi c'era minore, riscrivo minore. Riassumendo quindi possiamo dire che ogni qualvolta passo dalla disequazione esponenziale alla disequazione tra gli esponenti, se la base a è maggiore di 1 allora il verso della disequazione non cambia. L'esatto contrario succede invece con gli esponenziali con base compresa tra 0 ed 1, perché in questo caso si tratta di funzioni strettamente decrescenti. Che cosa significa ragazzi? Significa che sono tanto più grandi quanto più piccolo ha il loro esponente. E quindi quando andiamo a risolvere una disequazione del tipo a alla f di x maggiore di a alla g di x, il più grande dei due questa volta sarà quello con l'esponente più piccolo, non quell'esponente più grande. E quindi quello che succede praticamente è che il verso della disequazione si inverte non appena io passo dalla disequazione esponenziale alla corrispondente disequazione algebrica tra gli esponenti. Vediamo anche in questo caso un paio di esempi. Se dovessi risolvere un quarto alla 2x più 1 maggiore di un quarto alla settima è sufficiente notare che si tratta di esponenziali aventi la stessa base, quindi posso passare subito alla diseguaglianza tra gli esponenti. Devo però notare che la base un quarto è compresa tra 0 ed 1 e quindi conseguentemente giro il verso nella disequazione. Allo stesso modo vedete qui sotto abbiamo due esponenziali entrambi con base un settimo, quindi compresa tra 0 ed 1 e quando vogliamo passare alla dispettiva diseguaglianza tra gli esponenti dobbiamo ricordarci di cambiare il verso. C'era minore mettiamo maggiore. Capite quindi ragazzi che la base gioca un ruolo chiave nelle disequazioni esponenziali e bisogna stare molto attenti a ricordarsi che se è minore di 1 potrei a un certo punto dover cambiare verso. Proviamo adesso a considerare un paio di disequazioni esponenziali più complicate e cominciamo con questo esempio di cui avevamo già discusso la relativa equazione nel video precedente. Cerchiamo quindi di risolvere radice cubica di 2 elevato alla 2x più 2 maggiore o uguale di 1 fratto la radice quadrata di 2 alla 2 meno x. E allora inizialmente ragazzi uno si comporta esattamente allo stesso modo di come avrebbe fatto se ci fosse stato un uguale qui. E quindi uno in primis si sbarazza di queste radici riscrivendosele come esponenti frazionari rispettivamente un terzo per la radice cubica e un mezzo per la radice quadrata. E poi visto che le cose al denominatore naturalmente sono fastidiose questo 2 elevato alla 2 meno x fratto 2 uno se lo può trasportare al numeratore naturalmente pagando il prezzo di cambiare di segno l'esponente. A questo punto vedete abbiamo ottenuto una disequazione tra esponenziali aventi la stessa base e però esponenti diversi. E in questo preciso istante devo stare attento nel passare alla diseguaglianza tra i relativi esponenti al verso della disequazione. Devo infatti chiedermi la mia base che in questo caso è 2 è maggiore di 1 oppure è compresa tra 0 ed 1? 2 evidentemente è maggiore di 1 e quindi in questo caso nel passare dalla disequazione esponenziale alla relativa diseguaglianza tra gli esponenti il verso verrà preservato. Da qui in poi naturalmente si vince facilmente perché questa è una disequazione di primo grado e quindi basta dare denominatore comune e alla fine si conclude che la soluzione sarà x maggiore uguale di meno 10. Vediamo adesso un altro esempio e proviamo a risolvere un terzo elevato alla x meno 2 fratto 2 minore uguale di 27 che moltiplica un nono elevato alla 1 meno x. E allora innanzitutto ragazzi un po' come se fosse un'equazione la prima cosa che dobbiamo fare è applicare le proprietà delle potenze per addomesticare questa cosa qui che per il momento è scritta in una forma piuttosto antipatica per noi. In questo caso ci conviene lasciare il membro di sinistra così com'è che vedete che è già pronto tutto in un unico pezzettino mettiamola così e invece cercare di trasformare l'oggetto a destra anche lui in una potenza della stessa base un terzo possibilmente. E quindi direi che il 27 ce lo possiamo riscrivere come un terzo elevato alla meno 3 perché infatti 27 sarebbe 3 alla terza. Se vogliamo scriverlo non come potenza di 3 ma come potenza di un terzo allora dobbiamo cambiare di segno l'esponente e quindi un terzo alla meno 3. E a sua volta l'un nono qui lo possiamo vedere come un un terzo elevato alla seconda e quindi visto che poi c'era già un esponente 1 meno x quando abbiamo un terzo alla seconda elevato ancora alla 1 meno x potenza di potenza gli esponenti si moltiplicano otteniamo un terzo alla 2 meno 2x. A questo punto vedete che a destra abbiamo due esponenziali aventi la stessa base moltiplicati tra di loro e quindi li possiamo descrivere come un unico esponenziale avente per esponente la somma degli esponenti e qui viene il momento dove dobbiamo stare attenti perché vedete abbiamo due esponenziali con la stessa base quindi possiamo passare alla relativa disequazione tra gli esponenti ma stavolta essendo la base un terzo minore di 1 o se volete compresa tra 0 ed 1 il verso della disequazione cambia e quindi invece di minore uguale adesso devo mettere maggiore uguale. Proseguendo con i calcoli si conclude che la soluzione sarà x maggiore uguale di 0. Proviamo infine a risolvere 2 elevato alla 2x meno 5 volte 2 alla x più 6 maggiore uguale di 0. E se vi ricordate quello che abbiamo imparato nel video precedente sulle equazioni il trucco per fare quelle di questa forma era di cambiare variabile e quindi di chiamare l'esponenziale per esempio t. In questo modo vedete salta fuori una specie di disequazione di secondo grado nella nuova variabile in questo caso t quadro meno 5t più 6 maggiore uguale di 0. A questo punto uno se la risolve e per fare questo potete utilizzare il metodo che preferite. A me torna sempre comodo pensare ad una parabola ogni qualvolta una disequazione di secondo grado così che chiedersi dove questa è soddisfatta equivale a chiedersi dove il grafico della corrispondente parabola sta al di sopra dell'asse delle ascisse e in questo caso la soluzione è t minore uguale di 2 unito a t maggiore uguale di 3 e a questo punto è sufficiente ripristinare la variabile x. Infatti basta ricordarsi che t era uguale a 2 alla x quindi a noi va bene quando 2 alla x è minore uguale di 2 oppure quando 2 alla x è maggiore uguale di 3. Qui vi ho anche graficato la situazione 2 alla x ha un grafico che assomiglia a qualcosa del genere e quindi vedeteci va bene dove sta sotto la retta orizzontale ad altezza 2 e dove sta sopra la retta orizzontale ad altezza 3. Non ci resta che trovare i due bordi delle zone che ci interessano e quindi vedete 2 alla x minore uguale di 2 è come dire 2 alla x minore uguale di 2 alla 1 e quindi la soluzione sarà x minore uguale di 1 perché vedete devo preservare il verso quando passo alla disequazione tra gli esponenti il verso era minore uguale e resta minore uguale perché la base 2 è maggiore di 1. Da questa parte invece vedete che abbiamo 2 alla x maggiore uguale di 3. 3 però non è parente di 2 il che significa che la soluzione sarà un numero irrazionale e quindi si potrà scrivere solo sotto forma di logaritmo e quindi avremo x maggiore uguale del logaritmo in base 2 di 3. Io ho messo maggiore uguale vedete cioè ho preservato il verso che c'era prima poiché l'esponenziale da cui sono partito in questo caso il 2 alla x aveva la base maggiore di 1. La soluzione finale sarà quindi x minore uguale di 1 unito ad x maggiore uguale del logaritmo in base 2 di 3. E proprio di logaritmi parleremo nel prossimo video dove vedremo non solo come sono definiti ma anche le loro principali proprietà. Io per il momento vi saluto, come sempre se avete trovato utile questa video lezione ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarci sulla pagina facebook e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video. Grazie a tutti!